ben ritrovati a foggia sabato nubi progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco sono previsti 5 mm di pioggia durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22 gradi la minima di 12 i venti al mattino moderati da est sud est al pomeriggio tesi da est nessuna allerta meteo presente per ora è tutto buon proseguimento